Dal candidato presidente Paolo Truzzo Sono qui perché sono un orgoglioso figlio di questa terra e non di una sola città Sono qui perché mi avete scelto voi non obbligato per essere in questa condizione e sono qui e lo sapete tutti, credo perché ho sempre cercato di lavorare per l'unità e lo voglio dire ad Angelo, a Nanni, ad Aldo, a Maria Grazia a Vincenzo, ad Antonio, a Barbara e ad Antonio L'unità è un valore fondamentale quello che ci permette di dare una risposta ai nostri concittadini però vi chiedo uno sforzo sapete che io ho sempre lavorato per l'unità l'unità non si raggiunge da soli non è unidirezionale serve il contributo di tutti e ne abbiamo uno straordinario bisogno e credo che anche in questi primi giorni di campagna elettorale ho cercato di dimostrare anzi ho dimostrato che si lavora per tutta la salvezza e allora vi dico quattro numeri un milione cinquecentosettantacinque zero ventotto cento quarantasetemila quattrocento ventiquattro cento ventimila e ottocentocinquantacinque settantanale non sono i numeri da giocare all'otto sono i numeri della Sardegna gli abitanti dell'intera isola gli abitanti di Cagliari il comune più grande del quale mi onoro di essere il sindaco gli abitanti di Sassala la seconda città della Sardegna e gli abitanti di Baradili settantanale vedete io ho iniziato il mio percorso il mio viaggio breve ma intenso nei comuni della Sardegna dal comune più piccolo dal comune amministrato da una dirigente provinciale del Partito Democratico perché ho la convinzione che i problemi di quest'isola e le opportunità di quest'isola risiedono in ognuno di noi nel comune più grande come nel comune più piccolo e se noi continuiamo a ragionare sulla divisione dei territori a volte spinta anche da interessi non avremo la possibilità di offrire un futuro alla nostra terra ci salviamo tutti insieme mi chiedo scusa ma lo faremo seguendo l'insegnamento di un grande campione di una grande persona che ci giudica che sarà in un sardo che ha scelto di essere sardo è un sardo due volte che ci ha insegnato due cose che serve l'unità che si lavora un'inti e che un'inti si va a mandare gli assoluti qualche volta sia della prima ma non si va lontano e a noi interessa andare lontano e la seconda cosa che ci ha insegnato è che si fa ciò che è giusto e non ciò che conviene e allora noi faremo ciò che è giusto per la nostra Isa per il nostro popolo per la nostra Sardegna non faremo ciò che è conveniente grazie